Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telepolise. In apertura vogliamo congratularci con Fabio Lionelli, uno dei migliori atleti agonistici plurititolato della Shiozuki Karate di Campobasso e del Kus Karate Molise che ieri ha conseguito la laurea in scienze motorie e sportive presso l'Università degli Studi del Molise discutendo una tesi in preparazione atletica e pesistica dal titolo La preparazione fisica del Judo e del Karate dall'età evolutiva all'età agonistica relatore professor Bruno Petti. A Fabio, ai genitori Concetta e Giancarlo Lionelli, quest'ultimo nostro grande amico, uno degli amici più sinceri e per anni collaboratore del CONI Molise al fratello Stefano vanno gli auguri più affettuosi naturalmente da parte mia personalissima e da parte di tutta la redazione sportiva di Telepolise. Calcio di Serie D, proseguono gli allenamenti per il Termoli che si sta preparando per il match interno con la Fermana mentre la squadra prepara la prossima uscita di campionato. società e tifosi in questa giornata vogliono ricordare Aldo Bevere di Teramo ma capitano e calciatore dell'US Termoli che ormai nove anni fa ha perso la vita in un incidente stradale. Aldo viene ricordato per la sua semplicità, sincerità e la voglia di vita. I tifosi ce l'hanno nel cuore ed ogni fine febbraio il ricordo rievoca un personaggio che non è più con noi ma è sempre presente nei cuori degli sportivi giallorossi e più in generale molisani. In lotta per mantenere la categoria Isernia e Olimpia agnonese nella prossima uscita match a Civitanova Marche per i ragazzi di Califano mentre l'Agnone attende la maceratese. Riemergono i problemi societari ad Isernia oggi dovrebbe esserci un faccia a faccia tra Capitano Panico e il neopresidente Ciampettiello. I Sernia ed Olimpia agnonese stanno rincorrendo la permanenza in Serie D decisamente più critica la situazione dell'Isernia. Le due sconfitte consecutive Termoli I e Renato Curi Poi hanno complicato e non poco la situazione in classifica dei Bianco Celesti che oggi condividono il penultimo posto proprio con la squadra di Città Sant'Angelo. Mantenere la calma è fondamentale ma la settimana non è iniziata nel migliore dei modi. Lo sfogo di Capitano Panico sugli emolumenti pregressi ha preso alla sprovvista il club. A dicembre, come ha dichiarato il direttore sportivo Dino Petrangelo, sono stati presi accordi precisi con i calciatori che hanno scelto di continuare ad indossare la casacca di Isernia. Il pregresso non sarebbe stato saldato dato che è stato già difficile reperire il budget per terminare la stagione. Il sodalizio Pentro ha lasciato la porta aperta. Chiuso questo argomento, mister Califano sta preparando la squadra per la difficile gara di Civitanova Marche. Ben tre le assenze, due per squalifica, il centrocampista Fontana bloccato per due turni e l'attaccante Riccardi fuori solo domenica. A loro bisogna aggiungere il difensore Ursini, bloccato in infermeria per un risentimento muscolare. Il programma degli allenamenti prevede oggi un test in famiglia, domani seduta mattutina e sabato la classica rifinitura. Isernia che domenica scenderà in campo conoscendo già il risultato di Renato Curi che ha anticipato a sabato la gara casalinga contro il Giulianova. Griglia play-out anche per l'Olimpia agnonese che condivide il piazzamento con il Fano a quota 29. Marchigiani oggi avvantaggiati dallo scontro diretto all'andata superarono i molisani di misura. Il prossimo 30 marzo il ritorno. Urbano nel girone di ritorno ha intrapreso una nuova politica, quella di affrontare una gara per volta. I frutti si stanno raccogliendo. 12 punti in 7 giornate. Se consideriamo che nel girone di andata ne ha aggiunti 17, il trend è più che positivo. Al Civitelle domenica arriva la maceratese. Ospiti che hanno aggiunto dopo il giro di Boa solo 8 punti. Nonostante tutto mantengono il quinto posto che vuol dire gare post-season. Nel pomeriggio test con la Juniores, con mister Urbano che ha l'imbarazzo della scelta. Squadra al completo grazie al rientro dello squalificato Rolli. Calcio d'eccellenza ha ufficializzato l'anticipo per la partita Campobasso-Pozzilli. Rosso-Blu sabato in campo per il campionato. E mercoledì, sempre allo stadio Selvapiana, Curva, Michele e Scorrano, ospiteranno il Porto Corallo per l'andata dei quarti di Coppa Italia. Contro il Pozzilli, Farina pensa ad un turnover. Campobasso-Virtus-Pozzilli, gara valida per l'ottava giornata di ritorno del massimo campionato regionale, si giocherà sabato in anticipo al Selvapiana Michele e Scorrano, con fischio d'inizio alle 15. Accettata dunque la richiesta della società Rosso-Blu, con l'obiettivo di preparare al meglio un giorno in più di riposo, la gara di mercoledì prossimo contro il Porto Corallo, valida per i quarti di finale di Coppa Italia nazionale. A proposito definito il tabellone dei quarti, oltre Campobasso-Porto Corallo si giocheranno Pro Settimo-Torino-Arzignano-Squadra Veneta, Monte Giorgio-Provincia di Ascoli Piceno-Ponzacco-Città in provincia di Pisa e Casarano-Catania-Sampio. Per la gara di Coppa Italia parliamo del ritorno in programma in Sardegna, mercoledì 12 marzo, da segnalare diverse prenotazioni aeree da parte dei sostenitori del lupo. Prima di proiettarsi sulla Coppa le attenzioni del gruppo sono rivolte alla gara di sabato. Probabile un turnover per mister Farina, anche se la rosa con le ultime defezioni al momento è abbastanza ristretta. In particolar modo nel reparto avanzato, dove restano i soli Vitelli e Lazzarini. Probabile un piccolo tour de force per i due attaccanti. La giornata di campionato potrebbe essere importante per aumentare il distacco dalle inseguitrici. Infatti sempre sabato a Casa Nuovo Monterotaro ci sarà il big match tra la gioventù calcio da una seconda e il Fornelli terzo. La gara contro la Virtus Bozzilli sarà la prima di due a domicilio per il Campobasso. Nella ventiquattresima di campionato infatti i lupi saranno impegnati contro la Life. Probabile anche in quell'occasione pensare ad un anticipo al sabato. Dunque calendario fitto, energie da dosare per il rosso-blu nella fase calda della stagione. Sul momento e sulla squadra sentiamo proprio il parere del tecnico Francesco Farina. La partita che mi faceva più paura era questa perché era la quinta del ciclo di cinque partite in 14 giorni. Quindi era questa, però devo essere sincero, il primo tempo la squadra è bene bene bene. L'1-0 secondo me nel primo tempo è stretto, molto stretto anche perché veramente abbiamo avuto 3-4 situazioni che potevamo fare gol. Poi nel secondo tempo, dopo la partita di Avezzano c'è stato un caldo, però va bene così. La squadra ancora oggi ha dato dimostrazione di carattere e di lucidità. Mi dispiace, spero che non si infortuni più nessuno in maniera così grande. Altro big match sabato per il Fornelli, questa volta in casa della vice capolista Gioventù Dauna. 1-1 il risultato dell'andata. I fornellesi sono reduci dal pareggio con la capolista. Sentiamo il capitano Pietro Castaldi. Allora Pietro Castaldi, capitano del Fornelli. Avete preso un ottimo pareggio arrestando la corsa del campo basso. Sì, abbiamo fatto una buonissima partita, soprattutto nel secondo tempo. Nel primo tempo, come sempre, abbiamo avuto un approccio non proprio buono. I primi 10-15 minuti probabilmente siamo andati in difficoltà, tanto perché abbiamo preso anche il gol. Però per il resto della partita probabilmente meritavamo anche qualcosa in più del pareggio. Comunque è un risultato molto positivo, anche perché affrontiamo una squadra che conosciamo tutti e sappiamo quello che sta facendo. Quindi ci prendiamo per buono il punto e cominciamo a pensare già alla partita della settimana prossima che comunque sarà anche lì una battaglia. Adesso dovrete lavorare per raggiungere questi play-off. Avete proprio questa sfida delicata di domenica. Sì, l'obiettivo ormai rimane quello di rimanere nella zona play-off. Anche sabato prossimo andiamo a fare lo scontro diretto con la Monti Dauni che è la nostra diretta avversaria che sta davanti a noi. Le gare di alta classifica si giocano tutte in anticipo. Sabato il sesto campano ospiterà il vasto Girardi, sesto lesi reduci dal successo di Venafro che gli ha permesso di mantenere il quarto posto e di guadagnare punti sul Fornelli. Tornelli, il presidente Silvestri. Presidente, una partita mai messa in discussione qui a Venafro contro un Venafro giovane però insomma il sesto campano già dai primi 20 minuti aveva fatto ben capire quali erano le sue intenzioni. Sì, diciamo che noi questa partita non la temeramo perché comunque è una squadra di Venafro. Oltretutto la quinta posizione, appena cinque punti dietro a noi, diciamo che sapevamo che era un campo abbastanza ossico. Sì, assolutamente. Tutti i meriti al sesto campano che anche quest'anno insomma come negli altri campionati è sempre lì e dà sempre filo da torcere a tutti. Ah sì, diciamo che noi abbiamo fatto con l'obiettivo quello di salvarci il più presto possibile. Certamente la squadra in questo momento siamo quarti in classifica e cercheremo di stare là insomma di accamparci al Fornelli per fare questi play-off. Certamente il Venafro è una tappa importante perché vincendo contro il Venafro ci portiamo 8 punti 8 punti a 7-8 partite alla fine significa che noi dobbiamo perdere 4 partite e loro devono vincere sempre. Abbiamo delle partite importanti anche fuori casa per le prossime partite però comunque ce la giochiamo particolarmente in casa dove è il nostro fortino, riusciamo almeno là a vincere tutte le partite in casa e riusciamo sicuramente a fare la quarta posizione. Nel prossimo incontro affronterete il Vasto Girardi, un'altra veterana del campionato d'eccellenza e tra Sesto Campano e Vasto Girardi insomma viene fuori sempre una bella partita. Diciamo che un derby non da vicino, un derby un po' lontano però l'ho sentito e diciamo c'è stato sempre un po' di problemi che è un po' così però alla fine io con il Presidente Lucente siamo amici insomma certamente. È una partita che sicuramente la temiamo ma ce la rispettiamo per poi alla fine di non giocare a Sesto e quindi per noi Sesto Campano vuol dire vincere la partita. Calcio a 5 di serie A2, la esernia a causa delle condizioni del Palasport di Miranda. Sabato ospiterà il Potenza nel capoluogo alla Palestra Sturzo con fischio d'inizio alle 17.30. Campionato di promozione il Kerkes Cerce Maggiore sta preparando la trasferta nel capoluogo contro l'FC Molise, locale in lotta per la salvezza, ospiti in piena zona, playoff. Giovanni Zurlo, capitano di questo bel Cerce Maggiore, una vittoria netta nonostante il punteggio sia risicato. Vi siete un po' complicati la vita dopo il gol di Magnotta, forse era finita anche la benzina visto tutte le partite che avete giocato in quest'ultimo mese. Sì, a parte che le squadre di Mr. Martirelli corrono fino all'ultimo minuto, corrono, si distinguono soprattutto per quello. Poi, primo tempo abbiamo un po' sprecato troppe occasioni, potevamo chiudere il primo tempo con un margine più alto di vantaggio però siamo scesi concentrati anche il secondo tempo in campo, speriamo di continuare così. Ecco, quello che è piaciuto è stato l'approccio del primo tempo, 8-9 palle con la nitide, tantissime occasioni anche sciupate su un campo dove non è facile giocare sia per chi viene ma anche per voi che siete i padroni di casa insomma mi sembra che questo terreno vi possa penalizzare anche oltre misure. Giocare su questo campo è difficile, sono delle battaglie quando entriamo in campo qui la domenica però dobbiamo sempre lottare dal primo all'ultimo minuto, ci hanno insegnato questo qua a Cercio Maggiore. Senti, a parte quello che vi hanno insegnato, adesso forse vi insegneranno a credere nei play-off. Ci manca qualche punticino forse per distaccare ancora di più i play-out però rimaniamo con i piedi per terra e guardiamo a domenica che c'è il Molise adesso ci possiamo anche credere ai play-off. L'ultima considerazione, che campionato è questo di quest'anno? Non ci credevamo. Abbiamo le potenzialità, sapevamo che abbiamo giocatori come Stefano Zurlo i due fratelli Nardacchione, Riccardo, sono tutti bravissimi giocatori e sapevamo che potevamo fare un bel campionato e adesso ci stiamo là sopra e vogliamo restarci. Oggi andrà in onda la telecronaca di ferita di Kerkes Cerce Maggiore, Nuovo Vinchiaturo alle 17 su Telemolise 2, Canale 12, alle 20.30 su Telemolise Sport, Canale 112. Le Acli si stanno allenando in vista dell'anticipo in casa della capolista Sporting Matese che giunge a questo match dopo il tracollo a Riccia di domenica scorsa per le Acli. Abbiamo intervistato il difensore Iasevoli. Siamo con Andrea Iasevoli, difensore dell'Akli Campobasso. 1-0 allo Spinete. Vittoria, doveva essere Vittoria di Stata, però un po' troppa sofferenza. Sì, potevamo chiudere la partita prima in varie occasioni, non ci siamo riusciti e purtroppo le partite sono così. Purtroppo non siamo riusciti a chiudere la partita subito e queste sono le conseguenze. Venivate da un buon periodo, avete vinto proprio sette giorni fa il derby con il Molise, altra vittoria, siete a quota 38 punti in piena zona playoff, adesso si va a Treppini, partita difficilissima, anche con qualche defezione di troppo. Sì, assolutamente, andiamo a Treppini, andiamo a fare la nostra partita, andiamo a cercare di fare il risultato, anche se sappiamo che di fronte a noi abbiamo una buona squadra, una squadra assolutamente, secondo me, superiore, però comunque andiamo a giocarci, diciamo. Siete in linea con i vostri obiettivi di Niso Staggione? Vi manca qualche punto? Secondo te avete qualche punto in più? Gli obiettivi alla fine arrivati a questo punto contano poco, si cerca sempre di fare meglio, si cerca sempre di fare bene, per cui più punti facciamo è meglio per noi. Il Treppini è veramente imprendibile, perché con me ha vinto il campionato, però con il Casanova e il Riccia la potete giocare tranquillamente. Sì, speriamo di fare buone partite, speriamo di poter andare avanti per la nostra strada e speriamo di poter guadagnare più punti possibili sul campo. Anche il campionato di promozione offre un'ottava giornata piena di big match. Il Real Termoli, che vuole mantenere il sesto posto, sabato ospiterà la seconda della classe Casalnuovo-Monterotaro. Abbiamo parlato con l'allenatore termolese. Mister Guglielmi, c'è ancora del tempo e proprio da questa sconfitta, magari il Real Termoli, che ci ha abituati sempre ad avere un bel carattere sul campo di gioco, potrà ripartire per continuare a far bene. Sì, però il discorso è questo, che mentre noi, diciamo, un po' i giocatori sono un po' demotivati, perché? Perché noi siamo partiti per fare una bella figura come l'anno scorso, che abbiamo fatto un campionato di record e di gole e di vittorie. Quest'anno eravamo partiti bene, però poi abbiamo delle squadre tipo Sporting di Piedimonte Matese, che a Novara fra le sue file di Matteo, che ha giocato in Serie B col Pescara. Poi abbiamo il Casal Nuovo, che sono giocatori nella regione Puglia e Campania. Il mestiere dei giovani non è quello di lavorare, è quello di fare il calciatore e sopravvivere. E quindi c'è gente che sta a giocare a pallone, ma nonostante io ho perso 2-1 a Piedimonte Matese, che ho pareggiato 2-2 a Casal Nuovo, quindi diciamo, io la squadra ce l'ho. Però purtroppo vedendo allontanarci i giocatori, vedendo che ci allontaniamo dalla vetta, sono un po' demoralizzati, però adesso martedì ci ricombattiamo, perché appunto sabato abbiamo in casa il Casal Nuovo, quindi è un'altra battaglia. Il futuro del Real Termoli, lei come lo vede? Ma il futuro del Real Termoli, allora io non so se il Presidente continuerà. Perché? Perché è la Federazione, è l'AIA, gli arbitri ti fanno passare la voglia. Perché il calcio di rigore che ci ha dato a noi è l'espulsione. Non riesco a capire perché ammonizione e calcio di rigore. E allora, questo ragazzo non è un arbitro, è un arbitro che fa la seconda categoria il sabato e la domenica li mettono in campo. Quindi che succede? Partita abbastanza come questa di oggi, no? Un paio di volte l'ho richiamato dicendo, ma guarda che ha fatto mani davanti a lei, non l'ho visto, mi deve scusare, che gli vuoi dire? Non gli vuoi dire, ma sono tutti così. Infatti lei vede, se ci fa caso, viste che voi seguite le partite, sono gli assistenti anziani e gli arbitri giocati. Dice, ma non ce l'abbiamo. Eh vabbè, non ce l'abbiamo allora, andiamo avanti così. Sì, però per fare un campionato di questo livello ci vogliono 40-45 mila euro. E non so se il signor D'Angelo l'anno prossimo se la senta ancora di affrontare una sposa del genere. E allora io dico questo, che se il signor D'Angelo l'anno prossimo vuole fare di nuovo il campionato, basta fare una domanda di ripescaggio, perché io penso che il 50% di promozione d'eccellenza l'anno prossimo non si segnerà. E quindi faremo un campionato. Noi 25 anni fa giocavamo, eravamo con la sezione della Campania. Eravamo bistrattati perché adesso siamo autonomi, però ciò nonostante cerchiamo di riportarci in casa sia la Campania che la Puglia. Quindi non abbiamo fatto nessun passo avanti. Lotta salvezza tra Maronea e Campodipietra, ospiti che nelle ultime tre giornate hanno aggiunto cinque punti in classifica. Il centrocampista Marro. Marco Marro, un pareggio arrivato davvero per il rotto della cuffia contro questa FC Molise. Sì, è stata una partita combattutissima. Sapevamo che era una squadra attrezzata, molto bravissima in difesa e avanti. Ci aspettavamo proprio questa partita. Fortunatamente siamo riusciti a trovare il pareggio alla fine. Penso che sia un pareggio meritato. Ecco, un pareggio diciamo che al Campodipietra sta un po' stretto visto che comunque la zona della classifica è ancora al limite, zona play-out. Era fondamentale fare tre punti, grazie anche ai risultati di ieri, quello del Toro, dello Spinete, non hanno vinto. Però va bene anche il pareggio. L'importante è stare sempre lì e cercare di salvarci la possibile. Diciamo che il Campodipietra ha ingranato quella marcia giusta. Ricordiamo che viene comunque da tre risultati utili consecutivi. Due pareggi, una vittoria. Si può dire che da qui in poi ci sarà una svolta per il Campodipietra? Speriamo, anche perché avevamo fatto gli acquisti a dicembre per dare questa svolta. Purtroppo per varie vicissitudini siamo gli stessi dell'andata. Comunque questa è una squadra buona. L'anno scorso, ricordiamo, abbiamo lottato per la vittoria. Quindi speriamo di farcela. Ok, quindi la salvezza diretta è l'obiettivo e la prerogativa della squadra? Certo, sicuramente. Sicuramente siamo all'altezza. Penso che ci possiamo salvare direttamente. Il prossimo incontro, la trasferta in casa della Maronea, che partita ti aspetti? Sicuramente sarà un'altra battaglia. Però dovremmo fare sicuramente i tre punti, perché per salvarti bisogna vincere assolutamente queste partite. Per quanto riguarda invece il campionato in generale, secondo te chi è che la spunterà? Sicuramente i treppini, penso che manca poco alla vittoria. Poi, visto il callo del Riccia, penso che Casanova dovrebbe farci. Pallavolo femminile Under 18, quinta di ritorno, nonché ultima di campionato per le squadre Molisane. La nuova pallavolo Campobasso, ospitato e battuto 3-0 la Termoli pallavolo, mentre il Boiano Volley ha battuto al tie-break l'Euro Volley. Bene, era l'ultima notizia per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio. Il primo dei nostri ingredienti è la natura del Molise. La prima delle nostre tecnologie è il sapere dell'uomo. Caseificio Sassano. Ogni giorno, vissuto per la qualità. Vuoi una forma di energia che ti faccia risparmiare? CISAR Ti aspetta a Frosolone, incontrada Colle Carrise 91A e a Ripa Limosani, incontrada Taverna del Cortile 5. Oriental Disco Club Tutto l'Oriente in un'unica dimensione Le migliori hit del momento Oriental Disco Club vi aspetta ogni sabato con ospiti d'eccezione in via occidentale a Iserni Oltre 60 anni tra innovazione e tradizione Caffè Camardo Le origini per noi sono importanti Telemolise Lo sport d'autore Ha presentato il TG Sport La prima del google è stata rispondereonnale per tranquillamente E' disclosure A Ma discussions La 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 La